Si è svolto martedì 11 settembre presso l'Auditorium Comunale di Altavilla Silentina il nono focus group Destinazione Cilento. Ultima tappa prima dell'Assemblea di Costituzione dell'Associazione Destinazione Cilento che si terrà il prossimo 26 settembre nel suggestivo scenario dei Templi di Pestum. Altavilla Silentina entra a far parte del progetto Rete Destinazione Sud Strategie Condivise, un progetto di valorizzazione, promozione e commercializzazione dei territori, delle imprese e dei prodotti. L'asse a cui farà capo sarà Destinazione Cilento, atto a comprendere oltre 80 comuni che verranno sinergicamente messi in rete su scala nazionale. Destinazione Cilento rientra nel più ampio progetto South Italy, promosso dalla rete Destinazione Sud. L'obiettivo è quello di impostare un nuovo approccio al mercato attraverso un progetto condiviso, basato sulla creazione di destinazioni, aggregando imprese, istituzioni, associazioni, consorsi al fine di promuovere i territori e le proprie peculiarità, valorizzando l'economia dei luoghi e inserendoli in un percorso di rete di ampio respiro. Il fine ultimo del brand unico South Italy è quello di raggruppare tutte le destinazioni del Sud Italia per la promozione e commercializzazione congiunta sui mercati nazionali e internazionali. A spiegare nei dettagli la valenza del progetto è stato il presidente di rete Destinazione Sud, dottor Michelangelo Lurgi. Rete Destinazione Sud è una rete d'impresa costituita da imprenditori di quattro regioni del Sud Italia. L'intero Sud Italia si unisce per costruire un progetto strategico di sviluppo per il Sud. Questo progetto strategico si articola, praticamente come modello, nella creazione di destinazione. La rete, con tutte le imprese del Sud Italia, ha deciso di costruire 14 destinazioni, in tutte e quattro le regioni del Sud, per unirle sotto un unico brand che si chiama South Italy. Oggi siamo qui ad Altavilla per presentare la Costituzione di Destinazione Cilento, l'unione di 80 comuni dell'area del Cilento, quindi stakeholder, opinion leader, cittadini, imprese, associazioni, consorsi, che si uniranno il 26 settembre per la costituzione proprio di questa destinazione. Oggi spieghiamo, nell'ultimo focus group, questo è un focus group, il nono focus group che facciamo nel Cilento, perché bisogna creare Destinazione Cilento. Il 26, negli scavi di Pestum, grazie al direttore Gabriel Zugdriegel del Parco archeologico, che ci ha fornito questa splendida location, costituiremo insieme a tutti gli imprenditori e chi vorrà essere presenti, quindi cittadini, associazioni e chiunque altro voglia costruire insieme a noi un progetto di sviluppo, Destinazione Cilento.